Non solo allenatore e calciatori, la Paganese potrebbe cambiare pelle anche in società. Il lavoro silenzioso effettuato in questo periodo dalla famiglia Trapani starebbe portando a frutti che presto saranno ben visibili. Raffaele Trapani, presidente giovanissimo della Paganese, sembra essere riuscito ad avvicinare al club altri imprenditori del territorio e non solo, completando una formazione dirigenziale che sarà molto più forte e pronta a investire sul mercato per organizzare una squadra interessante che possa ben figurare nel prossimo torneo unico di Lega Pro. La Paganese dunque non vuole farsi trovare impreparata rispetto alla presenza di tante società gloriose nel prossimo campionato. Trapani, con l'ausilio del direttore generale Deboli, dopo la conclusione dell'attuale torneo, sarà più chiaro e preciso rispetto a queste novità, annunciando anche il nome del nuovo allenatore con la possibilità che ci sia anche la notizia rispetto all'avvenuta collaborazione con alcuni club di A e B, tra cui Parma e Genoa. E di futuro societario, in casa Nocerina si parlerà mercoledì sera a Nocera Superiore, con l'associazione Nocerini, pronta a dare in pasto ai tifosi qualche novità importante. Resta da capire invece cosa sarà dell'attuale Nocerina Calcio, cosa intenderà fare la proprietà, che rispetto alle attese non ha posto la società in liquidazione. Intanto domani pomeriggio allo Stadio San Francesco derby tra i Baby Molossi della Berretti e quelli della Salernitana, con entrambe che vanno a caccia di un posto al sole in classifica. Chi invece pensa ancora all'attuale stagione è ovviamente la Salernitana, che affronta domenica in esterna il Prato. Partita da vincere nonostante l'assenza, perché i tre punti sono determinanti per migliorare la posizione di classifica. Per Petuini non è al meglio, Volpe quindi arretrà in mediana, stante anche l'assenza di Pestrin, infortunato e Montervino squalificato. Capua dovrebbe giocare dal primo minuto, Mancini sembra essere di nuovo a disposizione, gara comunque da non sottovalutare, anche se i lanieri sembrano aver ormai mollato, in quanto i play-off sono irraggiungibili ormai già da settimane.